Andiamo avanti, altro concorrente, Giovanna Tagliaverga. Giovanna, vieni qua Giovanna. Buonasera. Allora, Giovanna, vieni qua, vieni a questa parte. Te canti un brano che per titolo Un'emozione da poco, vogliamo ricordare di Anna Ox. Emozionata, Giovanna? Giovanna, sempre molto emozionata. Bene, bene, questo ricciolone. Giovanna, te a dove arrivi? Ricordiamolo. Da Rosolini. Rosolini, benissimo. Allora, con Un'emozione da poco, canta Giovanna Tagliaverga. C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce E come un viaggio nella notte finisce Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha Dare amore a un uomo senza pietà Uno che non si è mai sentito finito Che un'emozione da poco mi faccia stare male Vedo una parola letta, più non basta no Ed io non vedo più la realtà E quanta tenerezza ti fa La mia incoerenza La mia incoerenza C'è una ragione che cresce in me E' una paura che nasce E' una paura che nasce Infonderabile, confonde la mente Finché non si pente E poi, per me, più che normale Che un'emozione da poco mi faccia stare male E' una parola letta, più non basta 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 La netta differenza Tra il più cieca amore e la più stupida pazienza So che io non vedo più la realtà E quanta tenerezza ti fa La mia incoerenza Pensare che mi preghi e pure neanche senza So che io non vedo più la realtà Pensare che mi presto benissimo anche senza So che io non vedo più la realtà E quanta tenerenza mi fa la mia coerenza Pensare che mi presto benissimo anche senza Giovanna, 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 Giovanna Vieni qua, Giovanna, dove stai? Dove ti giri? Giovanna Tagliaverga, facciamo un applauso ancora a Giovanna ragazzi Allora parliamo un po' con i nostri amici, con Margherita e Salvo Cosa pensate di Giovanna? Margherita? Questo è un brano molto difficile Un brano molto difficile, presentato nel 1978 al Festival di Sanremo Nel 78? Nel 78 Ma davvero? Siamo vecchi Mazzola ragazzi, nel 78 La particolarità che io ricordo, sono andata un pochino a rivedere Che lei, Anna Ox, si è presentata vestita da uomo Con la gravata Anna Ox è abituata davvero a un lucro incredibile E questa non è stata fatta proprio con il cosiddetto graffio Col graffio? Ah, così? E mi collego con il graffio, con la voce graffiante Ah, la voce! Pensavo che lei era che... Mi voglio collegare a Giovanna Perché Giovanna stasera sta male di voce Giovanna? E vabbè, capita ragazzi Non avrebbe dovuta farla Però ti voglio dire che è uscito fuori quel graffetto Cosa c'è l'influenza? Particolare di Anna Ox Giù di voce, giù di voce però Insomma, in tonalità originale Si è aggrappata un po' È stata brava, dai, comunque Migliorare la prossima volta Salvo! Vieni qua, vieni qua Giovanna Però ricordiamo sempre che è un'autodidatta che non studia È vero, lei non studia Ah, non studia No, io la domanda che volevo fare era questa, appunto, la tonalità Perché comunque ti viene alta fatta così No, le veniva bene Però siccome è giù di voce Adesso le è venuta un pochino male Salvo, attacca, 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 salvo No, attacca perché la posso mangiare Però, appunto, mi chiedevo il perché Perché la canzone è stata sciupata Però se Margherita dà la giustificazione Dice, sta male Non posso attaccare, mi dispiace È vero, è vero, è chiaro, è chiaro Un problema di salute, no Davvero, lei è stata bella La volta settimana scorsa Ha interpretato un brano Due settimane fa, non mi ricordo quando È stata davvero molto, molto brava Infatti l'ha potuta fare proprio perché ha una bella potenza vocale È vero, è vero Altrimenti non ci sarebbe riuscita Alla prossima, Giovanna Ci prepariamo? Battiamo l'influenza? Sì Ok, vuoi salutare qualcuno a casa? Mi saluto tutti quelli che mi stanno vedendo in questo momento Giovanna Tagliaverga, grazie 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 a tutti Grazie a tutti